Ciao a tutti ragazzi di questo nuovissimo video, oggi vi dirò le migliori posizioni per farlo la prima volta La prima ragazzi è il missionario, l'immagine comparirà qui da qualche parte, ragamo non lo so Questa posizione ragazzi è la più classica di tutti, praticamente l'uomo sta sopra e la donna sta sotto Lei ovviamente con le gambe divaricate e lui che è in mezzo Ma perché ragazzi ha la miglior posizione per farlo la prima volta? Facilissimo, perché gli organi del piacere sono in linea retta tra di loro, quindi fanno proprio così, capito? Ok, perfetto La miglior seconda posizione ragazzi è la cavalcata, in questo caso ragazzi l'uomo sta sotto e la donna sta sopra Visto che durante il primo rapporto la donna sarà più sensibile, questa posizione diciamo che è indicata per evitare di provare dolore diciamo O comunque fastidi, ok? Infatti ragazzi sarà lei ad avere il comando dei movimenti Ok ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like, commentate e condividete E noi quindi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti